Con una messa concelebrata in cattedrale e presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, domenica 17 ottobre anche la diocesi di Vallo della Lucania ha aperto la prima fase del cammino sinodale che coinvolge tutte le chiese del mondo. Il cammino sinodale voluto da Papa Francesco vuole avviare una fase di ascolto e di rinnovamento che accompagnerà la Chiesa Cattolica verso il giubileo del 2025. A causa delle disposizioni per l'emergenza sanitaria l'accesso alla celebrazione è stato consentito ad un numero limitato di fedeli che hanno rappresentato le diverse componenti di tutto il popolo di Dio presente nel territorio diocesano. Nei prossimi mesi si vivrà a livello diocesano un confronto continuo e costante tra vescovo, sacerdoti, consacrati, laici, associazioni per leggere i segni dei tempi nello spirito del Concilio Vaticano II, elaborando proposte da far camminare insieme al percorso della Chiesa italiana, europea e mondiale. È il momento ecclesiale più importante che vive la Chiesa universale dopo il Concilio svolto negli anni Sessanta, al quale anche la Chiesa diocesana non farà mancare il proprio apporto.